ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su telecittà è stata pari al 51 e 44 per cento l'affluenza i seggi in veneto per il voto delle comunali è il dato pubblicato dal ministero dell'interno ricavato dagli 86 comuni gestiti dal Viminale nella precedente tornata amministrativa quando si votava su due giorni era stata del 58 e 40 per cento la provincia con più alta affluenza è stata Verona con 54 e 35 seguita da Rovigo 53 e 76 da Vicenza 51 96 poi Padova Venezia Treviso ultima Belluno con un 46 per cento quanto al referendum l'affluenza si è fermata al 26 86 per cento comunque la seconda più alta nelle regioni italiane dopo la Liguria e come sempre inizio telegiornale occhiata al bollettino covid odierno in regione sono 605 i nuovi contagi covid registrati in veneto nelle ultime 24 ore dato molto contenuto rispetto agli ultimi giorni ieri erano stati 1592 ma che risente comunque però come tutti i lunedì della minore attività di tracciamento durante la giornata festiva si conta anche un decesso che porta il dato totale delle vittime da inizio epidemia a 14.739 sono invece 1.773.798 le infezioni dall'inizio della crisi sanitaria lo riferisce il bollettino odierno della regione sale ancora il numero degli attuali positivi più 630 per un totale di 28.748 mentre pressoché stabile la situazione negli ospedali con 434 ricoverati in area non critica meno 4 e 25 stesso dato di ieri in terapia intensiva intorno alle 10 di stamattina un uomo di 57 anni con problematiche psichiche si è recato in auto nel parcheggio multipiano di via Annibale da Bassano a Padova con l'intenzione di togliersi la vita ha raggiunto l'ultimo piano dell'autosilos e a quel punto sconvolto si è lanciato nel vuoto a rinvenirlo sono stati alcuni automobilisti che hanno chiamato i soccorritori il personale medico del suo m118 non ha potuto comunque far altro che constatarne l'avvenuto decesso per i rilievi del caso sono giunti gli agenti delle sezioni volanti della questura patavina proseguono i rilievi tecnici sull'apennino tosco emiliano nella zona in cui è stato localizzato l'elicottero precipitato giovedì per motivi ancora da chiarire e nel cui schianto sono morte tutte le persone a bordo tra cui il pilota Padovano 33enne Corrado Levorin e sei passeggeri l'area interessata posto sotto sequestro un canalone del Monte Cusne a località Villa Minozzo Reggio Emilia a circa 2000 metri d'altezza tra gli alberi e il greto del torrente lama zona particolarmente impervia e difficile da raggiungere sono stati trovati i detriti dell'elicottero e i sette cadaveri per lo più carbonizzati che già ieri sono stati recuperati dalle condizioni l'impatto deve essere stato fatale ma è dalle autopsie disposte che potranno arrivare ulteriori chiarimenti i punti da chiarire sul disastro restano diversi se le condizioni meteo abbiano influito se ci siano stati problemi di altro tipo se si è trattato di mera fatalità o se ci siano invece delle responsabilità insomma se la tragedia poteva essere evitata le risposte dovranno arrivare dalle analisi dei rilievi e naturalmente dalla scatola nera iniziamo la pagina degli incidenti vigili del fuoco all'opera Poiana Maggiore nel Vicentino per un'auto finita addosso a un armadio del gas il servizio poco dopo le 9.30 di stamane i vigili del fuoco sono intervenuti in via Petrarca Poiana Maggiore in provincia di Vicenza per un'auto finita contro l'armadio di un contatore del gas metano di un'abitazione ferito l'autista i vigili del fuoco arrivati dall'Onigo hanno messo in sicurezza la vettura e tamponato la perdita di metano dal tubo principale di condotta fino all'intervento dei tecnici della rete gas il conducente è rimasto ferito ma venuto fuori autonomamente dalla vettura è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM e trasferito in ospedale con codici di media gravità le operazioni di soccorso di vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza poco dopo le 15 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada regionale 348 in località San Zan nel comune di Feltre per lo scontro tra una moto e un camper deceduti i due centauri i pompieri arrivati da Feltre con i volontari del basso feltrino hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato i soccorsi sanitari purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del SUEM ha dovuto dichiarare la morte della coppia che viaggiava a bordo della moto la strada è rimasta chiusa per ore fino alla fine dei rilievi da parte delle forze dell'ordine altro incidente sulla Feltrina in località Caorera fortunatamente in questo caso invece i centauri sono risultati solamente feriti il servizio poco prima delle 17 e 30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada provinciale 1 bis in località Caorera nel comune di Querovas per un incidente tra una moto e un'auto feriti i due centauri i vigili del fuoco accorsi da Feltre con i volontari del basso feltrino hanno messo in sicurezza i mezzi finiti fuori strada e collaborato con i sanitari e i soccorsi della coppia a bordo della moto i due feriti sono stati stabilizzati dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedali in elicottero e ambulanza la strada durante i soccorsi è rimasta bloccata la pulizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro da oggi sarà esposta sugli stabilimenti balneare del litorale la bandiera blu ottenuta dal Lido di Venezia anche per il 2022 la consegna ai gestori è venuta stamani lunedì 13 giugno in una conferenza stampa nella sede della municipalità del Lido Pellestrina 2 il Lido viene premiato per il 14esimo anno consecutivo come località balneare d'eccellenza con Venezia che conferma la bandiera blu anche negli aprodi grazie alla certosa marina presente con il proprio gestore alla conferenza la bandiera blu viene assegnata ed è un riconoscimento internazionale istituito nel 1987 e attenzione all'estate e ai problemi causati dalle ondate di calore il comune di Venezia potenzia i propri servizi anche quest'anno come avviene ormai da tempo al fine di meglio tutelare la salute delle persone anziane e più vulnerabili in stretta collaborazione con l'ULS 3 il comune di Venezia ha predisposto il piano di risposta gli effetti sulla salute delle ondate di calore il piano sarà attivo dal 15 giugno al 15 settembre e si sostanzia in una serie di azioni ed interventi tra i quali l'aggiornamento dell'anagrafe dei più deboli la diffusione massiva di opuscoli informativi l'assistenza telefonica il potenziamento straordinario dei servizi sanitari e assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o ridotte con semplici accorgimenti come una corretta alimentazione un'adeguata idratazione uso di fibre naturali come cotone e lino per l'abbigliamento uscire di casa nelle ore meno calde della giornata e sapendo a chi rivolgersi in caso di bisogno chiudiamo dando un'occhiata al meteo il veneto si trova sul margine nord orientale di un promontorio anticiclonico che dal nord africa si estende all'europa centro occidentale sono quindi previsti ampi spazi di sereno a tratti un po' di nubi che più che altro in montagna causeranno una probabilità di piogge un po' maggiore il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso con ampi spazi di sereno in pianura e appunto un po' più variabili in montagna sulle Dolomiti rispetto a domenica temperature diurne in moderato calo in lieve aumento invece a sud ovest senza notevoli variazioni altrove è tutto anche per quanto riguarda l'informazione di oggi come sempre vi auguro un buon proseguimento con i programmi di Telecittà Grazie a tutti